Ma questi casting a che servono? In realtà il regista sceglie gli attori. A me è capitato il primo provino che ho fatto per il cinema, non ha fatto monicelli di persona, mi ha voluto incontrare, vedere, parlare per due minuti, insomma. Mi ha voluto rincontrare, vedere come reagivo alle cose che mi diceva, come stavo sul palco, stavamo dentro una sala. Come reagivo alle richieste? Perché è il regista che guida gli attori. Il regista parte da una storia. Come funziona il cinema? Dobbiamo raccontare una storia. Il produttore acquisisce la storia, chiama un regista, gli dice ok, rendila audiovisiva, rendila cinema, falla diventare una cosa video, audiovisiva, un film. Il regista capisce come tramutare la scrittura in immagini e suoni, sceglie le location e sceglie poi gli attori. È il regista che guida, è il regista l'autore del film, è il regista che ha la responsabilità e il compito di far diventare una cosa scritta qualcosa di audiovisivo, che ci abbia un senso e che sia credibile, che sia emotivamente trascinante e via dicendo. e musty casting, a che servono? Che ruolo hanno? C'hanno un ruolo nel selezionare, fare una preselezione degli attori che potrebbero essere giusti per la causa del regista. Ma questo qui è valido in America? Perché in America ci stanno dieci, centomila attori bravissimi che sono in grado di fare i protagonisti di qualsiasi tipo di film. Attore bravissimo significa uno che è in grado di non solo recitare in maniera credibile la scena, ma in più darti qualcos'altro non visibile che entra nell'immagine. Mentre tu vedi che quello vive una cosa, sta al pub, beve, parla o litiga con qualcuno, nel frattempo tu gli leggi il pensiero, gli leggi il suo vissuto, quello che sta per accadere. Questi sono attori. E in America ad attori così ce ne stanno dieci, venti, trentamila. Allora serve un casting. E quei casting sono importanti, i casting director, sono molto importanti. Perché quelli fanno una preselezione. Un regista non può avere cognizione di dieci, centomila attori bravissimi. Allora dice, vabbè, selezioniamo anche per altri parametri, no? Altezza, tipologia, faccia, perché sono tutti bravi. In Italia faccio la preselezione su che? Attori che sanno fare la cosa che ho detto prima. Si contano sulla punta del... Ce ne è uno, cioè pochi, no? Sulle dei dita, della mano o del piede. Insomma, sono pochi. Per cui che esistano centinaia d'agenzie e dei casting director bravissimi che selezionano che? Mi sembra un mondo dei gioiellieri, ma non c'è un gran motore. Il casting director in Italia, director, quando si può sentire, quello che fa il casting dovrebbe essere un selezionatore vero, cioè dovrebbe fare un... Il testimone del generale dovrebbe andare a cirofonare nelle case delle persone a vedere se c'è sta qualche alpacino nascosto sotto al divano legato. Attori in grado di fare il lavoro in maniera... Come fanno gli attori stranieri? Ce ne stanno pochissimi. Forse ce ne stanno nascosti. Allora il casting executive dovrebbe essere uno che va in giro a cercare, come un testimone, a cirofonare per le case, a cercare quelli bravi che sono stati legati dentro gli sgabuzzini. dovremmo avere un sistema che ci permetta di far crescere la qualità delle storie. La qualità delle storie cresce se ci stanno i registi che fanno i registi. Per cui il problema del casting è anche il fatto che il regista non fa il regista. Se il regista veramente sa fare il regista, non soltanto il tecnico, e cerca i luoghi, le persone per raccontare in maniera corretta, forte, quella storia, il casting non serve. Serve dove serve? Ho fatto l'esempio americano, dove esistono tantissimi attori di altissima qualità e allora mi serve realmente una preselezione. Occorrerebbe invece al contrario lavorare sulle persone, perché persone di talento e di qualità ce ne stanno tante, che possono aiutarci a raccontare una storia. Allora si tratta di preparare bene gli attori, di fare in modo che crescano, di sviluppare dei talenti. Noi devi fare una selezione su che? E' un popolo dei gioiellieri, ma non c'è un grammo d'oro. 200 agenzie, 700 casting, ma ci fosse un attore. E no. Vabbè. Sti casting.